Ciao amici, oggi è il mio compleanno e come vi avevo promesso vi offro una torta virtuale, cioè vi faccio vedere la ricetta di un dolcetto, tutto per voi, così possiamo festeggiare insieme, essere vicini col cuore anche se siamo fisicamente lontani. E veniamo al dolcetto, è davvero facile, è veloce, sapete che anch'io ho pochissimo tempo ed è buonissimo. La ricetta l'ho rubata a Serena che è una super chef vegana e crudista. Rubare le ricette a uno chef è un sacrilegio. È vero, volevo solo vantarmi di essere stata furba, in realtà le ho chiesto di darmi una ricettina per voi. Me l'ha girata lei, lo giuro, potrete chiederglielo. Ecco la ricetta, un bicchiere di latte di mandorla o di soia al cacao, due cucchiai di semi di chia, un cucchiaio di uvetta, un dattero fatto rinvenire in acqua e della panna montata, vegetale perché è vegano ma senza grassi idrogenati, mi raccomando leggete bene gli ingredienti. E prepararla è ancora più pratico, basta frullare tutto insieme e voilà, pronto. Ma è tutto qui? Sì l'ho detto che è facile ma va messa in frigo per almeno tre ore così si addensa e diventa una super coppa malù, super sana, super dietetica e amica dell'intestino. Ecco viene così, non è proprio una fetta di torta ma ci posso mettere una candelina simbolica. E adesso festeggio! Grazie di cuore a tutti voi amici, vorrei ringraziarvi per il supporto che mi date ogni giorno. Quando guardate i miei video mi scrivete nei commenti, mettete mi piace, condividete i video e vi iscrivete al mio canale, grazie! Continuate a farlo perché per me significa moltissimo, mi sto impegnando davvero tanto per fare crescere questa community trendy e sana, diventiamo sempre più numerosi. Bene, noi ci vediamo al prossimo video, nel frattempo sempre trendy e sani con Simona Vignali naturalmente, ciao! Ciao!